questo prodotto realizzato da colima ioliche e terrecotte dal 1650 ha conquistato una votazione di 8.8 su 10 punti totali questo è il migliore di questa selezione questi sono i suoi punti di forza stile sapore ottimo rapporto qualità prezzo se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video excelsa realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 7.8 su un totale di 10 punti risulta al momento essere il più desiderato questo prodotto è caratterizzato da un'elevata qualità è un articolo capace di accontentare un po tutte le tipologie di utenti trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video excelsa realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 7.4 su 10 risulta avere il miglior rapporto qualità prezzo un ottimo prodotto che si caratterizza per un'elevata qualità sicuramente una delle migliori soluzioni per questa tipologia di articoli puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video